Aveva reclutato 33 profughi, principalmente dai centri di accoglienza di Villa Estense, Este e Monselice, per impiegarli nella raccolta di pomodori in provincia di Rovigo. Ora un ventotenne di origine marochina dovrà rispondere di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, aggravato dal fatto di avere assunto anche irregolari in Italia o minorenne, sfruttando il loro stato di bisogno. Il ventotenne dovrà anche pagare una sanzione di 5.260 euro. L'indagine dei carabinieri di Carmignano di Sant'Urbano era partita dopo la segnalazione di un operatore del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Villa d'Este, insospettito dallo sconosciuto che quotidianamente si presentava la mattina presto a bordo di una monovolume sulla quale salivano alcuni ospiti della struttura. Dove andassero, lo si è capito poi, a raccogliere pomodori per 5 euro all'ora, peraltro mai ricevuti, lavorando senza pausa sotto il sole, in assenza delle più basilari regole di gene e in condizioni poco sicure. Tutti erano assunti in nero, fatto che ha comportato una maxisanzione da 101.000 euro all'azienda che li impiegava e è stato inoltre constatato un omesso versamento di contributi per 5.180 euro.